un buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa dalla segna stampa di inquieto notizie oggi mercoledì 18 dicembre cominciamo sfogliando le pagine dell'ora della calabria di cui abbiamo ricevuto però purtroppo solo l'edizione di Catanzaro titolo se è vero mi uccido torna scommessopoli 30 partite di A coinvolto Gattuso che ringhia se avete le prove mi suicido in piazza unica notizia regionale dell'ora della calabria che riguarda la piana non solo moda parla il pentito russo e il processo va all'antimafia un nuovo processo che passa dal tribunale di palmi al gruppo distrettuale di reggio calabria in seguito alle dichiarazioni di antonio russo finito nell'inchiesta anche l'ex assessore di gioia tauro ed ex direttore della viola gaetano condello pagine di gazzetta del sud presi mister x indagato gattuso sospetti pure su brocchio una decina i giocatori coinvolti calciopoli due anni e quattro mesi a moggi in alto confiscati beni a palmi e all'occhi e a rosarno deraudici agli studenti batteremo la drangheta porto di giugatavolo tra ritardi e incognite la politica fa autocritica e progetta il futuro dibattito della will sulle problematiche dei trasporti nessuno vuole investire e tutto il settore è in affanno l'assessore demi arena attacca la pq così non va drangheta confiscati immobili e imprese tra palmi e locri un patrimonio di 7 milioni di euro c'è anche la storica villa del gallico considerata il quartier generale della cosca le cosche alla conquista della padania la procura di milano ha chiesto pesanti condanne per i calabresi coinvolti nell'inchiesta costata l'arresto all'ex assessore domenico zambetti le pene più alte invocate per il rendese giuseppe d'agostino 14 anni e per il gioiese salvatore etzi per cui sono stati chiesti 12 anni deraudo a rosarno vincerà lo stato il procuratore parla gli studenti del liceo scientifico piria e li sprona innescare un processo di rivoluzione culturale attraverso impegno e sacrificio il magistrato ai ragazzi dice dovete essere educatori nel contesto familiare grazie agli insegnamenti della scuola il capo della dda accusa gli istituti di credito le banche non fermano il riciclaggio dei capitali taureanova il cavallo morto lasciato sulla strada provinciale da cinque giorni e viene definito una vergogna polistena città nuova il preside nasso un esempio per tutti nell'aula magna dell'itis il ricordo sempre vivo dei familiari gioia tauro rifiuti le nuove gare d'appalto scatenano tensioni e sospetti la cgl chieda al sindaco bellofiore di rispettare gli impegni assunti resta il nodo degli ex lavoratori di pieno ambiente l'avvertenza continua palmi non solo moda il pentito russo innesca l'aggravante mafiosa e gli atti passano alla procura reggina e a reggiconi iniziativa del comune buoni spesa alle famiglie in difficoltà piana i migranti sempre più invisibili l'indifferenza dopo le passerelle il consigliere provinciale longo scuote le istituzioni al san ferdinando gli ultimi ritocchi per la rinascita del piccolo tempio dedicato alla madonna e a sinopoli donazione del sangue e sostegno a teletone laureana la chiesa di san francesco riaprirà scusate grazie a un gruppo di fedeli risale al diciottesimo secolo e si trova in condizioni di preoccupante degrado pagina del quotidiano anche qui l'apertura anzi c'è una fotonotizia relativa al caso di gennaio gattuso ma l'apertura è invece sul bilancio un bilancio con scelte unilaterali un emendamento alla camera apre alla stabilizzazione dei precari sindacati denunciano le decisioni blindati della maggioranza oggi si va in aula critiche le forze d'opposizione da cremaiolo dicono si naviga a vista reggio sequestrati bene ai cordì e ai gallico e andiamo all'interno alla ricerca di notizie che riguardano il territorio venerdì la presentazione del romanzo all'accademia il libro dico soleto ma soprattutto televisione gli studenti del guerrisi ospiti della colo alle falde del chili mangiaro un'esperienza inedita per i ragazzi di cittanova le dichiarazioni di antonio russo aggravano i reati nei processi l'accusa chiede di acquisire i verbali in due procedimenti polistena il circolo replica al gruppo dei renziani e a san giorgio morgeto ritorna la tradizione del presepe dei bambini il profilo torniamo ad analizzare la notizia che riguarda le dichiarazioni di russo il conseguente arresto di copelli il profilo appunto di copelli una vita passata nella piana gomito a gomito con i boss per quanto riguarda il processo deja vu l'aggravante dell'articolo 7 agli imputati deja vu e grandi firme gioia tauro l'ospice gl discute di violenza sulle donne a melicucco e contagioso il cambiamento di renzi codonucci auspica una nuova classe dirigente al via lo sportello del sorriso rosarno è un centro di raccolta permanente per aiutare le fasce più deboli raccoglierà bene di prima necessità da distribuire ai tanti bisognosi gioia tauro verso una pianificazione partecipata per arrivare alla città metropolitana e a torianova la sezione ciccio zagri del partito di rifondazione comunista chiede una piazza per nelson mandela città nova il comune non c'è al taglio del nastro ed agostino lo bacchetta e a molocchio dopo la messa in sicurezza riaperta la strada provinciale era stata chiusa per i lavori ad agosto e infine dopo il doma mertina una veglia di preghiera per le vittime della violenza dopo gli omicidi delle cosche l'iniziativa del vescovo milito era questa l'ultima notizia di oggi piena stampa torna domattina alle 8 e 30 come sempre subito dopo il caffè a voi tutti da luce rodino l'augurio di una buona giornata